Torna il nostro consueto focus sulla sanità perché oramai abbiamo appurato in questi giorni la pandemia sembra essere ritornata e noi speriamo che possa terminare presto ma assistiamo ad un nuovo colpo di coda. La colpa di Omicron 2 o di un atteggiamento sempre più flessibile verso la malattia con le riaperture sempre più imminenti. Cerchiamo di capire lo scenario, lo facciamo in compagnia di Bruno Zuccarelli, presidente dell'ordine dei medici, chirurghi e odontoiati di Napoli e provincia. Naturalmente la curva del contagio sta crescendo sempre di più, c'è tanta preoccupazione, l'ultimo colpo di coda lo stiamo ravvisando per l'appunto in questi giorni. Che cosa sta accadendo? Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Allora, presidente, c'è preoccupazione, c'è un po' di allarmismo perché c'è la crescita dei contagi, però le aperture saranno imminenti. Ci può spiegare qual è lo scenario effettivo? Probabilmente si è abbassata un po' troppo la guardia e quindi siamo caduti un po', non dico nell'oblio, ma insomma nelle attenzioni che c'erano precedentemente. Elementi sicuri e certi è che l'uso della mascherina in questi ultimi mesi ci ha preservato da situazioni che potevano essere molto più importanti, ovviamente coniugati al vaccino. Il primo elemento è che per esempio i vaccini, la somministrazione dei vaccini sono calati in modo drammatico e quindi soprattutto le prime somministrazioni, ma anche la dose booster, la terza dose che era quella che ci poteva preservare, le somministrazioni sono calate drammaticamente. Questi due fattori delle minori attenzioni, il calo delle somministrazioni dei vaccini ha dato questo binomio certamente non favorevole e quindi questo rialzo naturalmente dei casi. Questo naturalmente non dico ci deve preoccupare, ma ce ne deve fare preoccupare perché siamo quasi ad aprile, in primavera, quando tutti sperano l'aria aperta naturalmente e quindi la diffusione del virus è molto molto più difficile e invece questo rialzo dei casi ci deve far capire che dobbiamo continuare ad avere determinate attenzioni. Senta, quello che spaventa sicuramente è la facilità di infezione e di reinfezione anche da parte di chi ha avuto il covid pochi mesi prima, anche due mesi prima, ma la variante Omicron 2 è veramente così pericolosa? È sicuramente molto più diffusiva e quindi naturalmente una persona infetta rischia di infettare 10-15 persone e quindi naturalmente rispetto ai casi precedenti ci può creare questo problema. La vera salvezza sono stati i vaccini, però dobbiamo anche considerare che la dose booster cominciano ad essere passati 4-5-6 mesi e quindi il titolo anticorpale discende. Attualmente non abbiamo un pronunciamento preciso da parte dell'EMA e dell'AIFA che dice che bisogna andare ad un'altra somministrazione. Ricordiamo che attualmente soltanto i soggetti immunocompromessi è consigliata questa quarta somministrazione. Naturalmente non essendoci dati certi il comportamento non è ancora definito, però che dopo 4-5 mesi la dose booster, il titolo anticorpale scende, la variante Omicron è molto più diffusiva, ci porta a questo rischio e si sono coniugati questi elementi che ci portano a questi dati. Senti, intanto per fortuna i ricoveri e anche le terapie rimangono stabili su numeri accettabili. Lei ha parlato anche dell'importanza dei vaccini, bisognerà ancora attendere, mi sembra di comprendere le sue parole, se sia poi giusto attuare quella che sarà la quarta somministrazione del vaccino. E attendiamo naturalmente gli organi competenti. Intanto io le chiedo però se ci può aiutare a comprendere anche questa stima perché il numero delle morti è ancora molto elevato. Perché? Perché, mi permette di dire, una puntualizzazione è lieve risalita il numero dei ricoveri in ambiente ospedaliere e cominciano ad essere lieve risalite anche i ricoveri in terapia intensiva. Se questo sia un segnale di un'ulteriore crescita, naturalmente questo ce ne deve far preoccupare. I morti, i deceduti vuol dire che c'è un campanello d'allarme e ci fa capire che la pandemia non è scomparsa. Perché diciamocela tutta, il problema della guerra che sicuramente è molto gravoso, naturalmente ha coinvolto a livello internazionale tutti quanti noi, ha fatto sicuramente avere meno attenzione verso la pandemia. Però il dato che gli ho detto sia dei ricoveri, sia in terapia intensiva, sia i ricoveri ordinari ci dicono che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. L'economia deve ripartire, bisogna continuare, però avere atteggiamenti di grande prudenza, questo deve essere importante da parte nostra. Altrimenti, lo dico con il sorriso, rischiamo di passare un'estate non piacevole e non gradevole. Ed è quello che non vogliamo, che scusiamo, naturalmente Presidente. Intanto lei ha toccato anche un altro testo importante, tenere ancora alta la concentrazione e l'attenzione, alta la guardia con tutte le misure anticontagio. Però nel frattempo ci avviciniamo sempre di più a quella fase che ci porta alla fine della fase di emergenza e di quelle che sono tutte le misure anticontagio. Ciò potrebbe comportare secondo lei il rischio di favorire una nuova ondata. Cioè si fa bene a dire fine allo stato di emergenza e allentare le misure anticontagio oppure secondo lei è preferibile continuare ancora? Le dichiarazioni politiche vanno in un senso. Le dichiarazioni dei tecnici, se lei va a leggere in modo preciso e puntuale, tutti quanti dicono vediamo come vanno i numeri, vediamo quale sarà l'andamento e naturalmente ci dovremo comportare con le giuste precauzioni. La cosiddetta mascherina che tutti quanti sviliscono, questa qui, ha risolto una serie di problemi. Naturalmente parla della mascherina FFP2, mi perdono. Assolutamente sì, ha sicuramente risolto una serie di problemi. Se vogliamo tornare in un cinema affollato, in un teatro affollato, l'uso della mascherina, soprattutto in ambiente chiuso, secondo me non si può prescindere da questo. Penso che i tecnici siano dando un segnale. Il 31 marzo finisce il periodo dell'emergenza, il 30 aprile tutti quanti liberi. Beh, attenzione, vediamo le cose come vanno perché altrimenti rischiamo, come ho detto prima, di non avere un'estate brillante come tutti quanti speriamo. Quindi bisogna saper contemperare l'economia che deve assolutamente ripartire, ma attemperare alla prudenza. Ritorniamo agli stadi al 100%, ritorniamo ai luoghi pubblici al 100%, ma determinate precauzioni e attenzioni bisogna assolutamente averle. Senta, io ne approfitto della sua presenza qui al nostro studio di Mattivana Live per porre un altro quesito, perché al di là del Covid, come sta oggi secondo lei la sanità dopo due anni di pandemia? La sanità sicuramente non è in una situazione brillante, perché per due anni noi non abbiamo curato le altre patologie. Io mi chiedo quanti screening e meno si sono fatte, quante diagnosi precoci e meno si sono fatte, quanti meno interventi chirurgici. Quindi il rallentamento della pandemia significava ritornare a un'ordinaria attività di assistenza. Quanti papatesti in meno si sono fatti, quanti naturalmente ecografie al seno, mammografie si sono fatte in meno. Quindi questo significa diagnosi tardive e questo significa un rallentamento dell'assistenza sanitaria. Bisogna cercare di ritornare alla normalità, per questo bisogna assolutamente puntare a abbassare nuovamente i numeri della pandemia. La sanità non sta in modo brillante, perché fa ripartire la macchina dopo due anni di Covid, dove siamo stati impegnati al 100%, e qui c'è anche un'altra grande carenza, una carenza di personale, perché nonostante le assunzioni che si sono fatte, in Campania dobbiamo ricordare che negli ultimi dieci anni si sono perse dalle 13 mila a 14 mila unità. Sono rientrati 6-7 mila, ma ne mancano altrettanto. Il PNRR può presentare un'opportunità? Il PNRR punta molto sulle attrezzature e sulle tecnologie, però facciamo subito un paragone. Stiamo comprando tante Ferrari Testa Rossa, ma ci mancano i piloti. Non possiamo far guidare una Ferrari Testa Rossa a un neopatentato. Quindi dobbiamo avere specialisti che siano preparati, perché per un respiratore, per naturalmente un'assistenza adeguata, possiamo mandare le prime file, ma è importante avere l'esperienza e avere persone che sappiano gestire i tempi, i modi e l'economia. Esatto, tre direttrici importantissime. Noi auguriamo che possa accadere veramente in brevissimo tempo. Grazie intanto a Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiati di Napoli e provincia, per essere stato con noi. Complimenti. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.